Come cambierà il lavoro? Se l'è domandato un grande studio guidato da Mimmo De Masi, il sociologo del lavoro più citato dai giornali perché è il più gentile tra i sociologi del lavoro e risponde sempre al telefono, ma anche perché dice da intellettuale quello che pensa senza dipendere da punti di vista preconcetti e lui ha fatto questa ricerca sul lungo termine della trasformazione del lavoro che poi è stata presentata all'inizio dell'anno alla Camera dei Deputati davanti a una folta delegazione di rappresentanti del Movimento 5 Stelle che avevano effettivamente finanziato la ricerca. D'ora in poi e rispetto a questo l'unica previsione che dobbiamo fare, che siamo certi di poter fare è che il 25 maggio esce il libro. Con lui c'è David Corsini che a Genova guida un'azienda che si chiama Danieli Telerobot Labs. Che non è una tv privata, ma fa robot straordinari che ci racconterà. E una delle domande, e finisco il pistolotto, ci mancherebbe altro, è che i robot possano sostituire gli umani. Allora come poniamo il problema Mimmo De Masi nel lungo termine con alcune slide che la regia prego di avviare e poi parliamo insieme con Corsini. Il lavoro è il risultato di una serie di spinte e di controspinte. Ci sono elementi per cui aumenta il numero di persone che vogliono lavorare, ci sono fattori per i quali le offerte di lavoro aumentano a loro volta e ci sono invece dei motivi per cui il lavoro diminuisce. Si tratta di capire queste spinte e come agiscono tra di loro. Il primo punto naturalmente è quello della demografia. Noi fra pochissimi anni, nel 2030, quindi fra 13 anni, avremo una popolazione mondiale di 8 miliardi di persone. Quindi da qui al 2030 c'è da trovare posti di lavoro per un miliardo di persone in più. Per fortuna un miliardo in più significa non solo un miliardo di bocche da sfamare, ma anche un miliardo di cervelli in più. avere 8 miliardi di cervelli, per di più molti di loro istruiti e sempre di più, come abbiamo sentito questa mattina, interconnessi, è una forza straordinaria. Pensate che l'umanità nell'epoca dell'illuminismo aveva appena 750 milioni di persone e oggi 8 miliardi. Il 63% vivranno in città, potremo vivere fino a 750 mila ore rispetto agli attuali 700 mila, vivranno più a lungo le persone più scolarizzate e con relazioni sociali più intense. Gli anziani con più di 65 anni saranno 910 milioni rispetto agli attuali 400 milioni. Però bisogna tener conto che la maggioranza delle persone diventa vecchia negli ultimi due anni della vita. Cioè la vecchiaia non si calcola dalla nascita, ma si calcola dalla morte. E siccome non sappiamo quando moriremo, è difficile dire quanti vecchi ci sono. Noi usiamo come indicatore la spesa per i farmaci. A un certo punto della vita, quello finale, noi spendiamo per i farmaci la stessa cifra di tutta la vita precedente. Ero poco tempo fa in una trasmissione televisiva e c'era un giornalista abbastanza giovane e mi ha detto a un certo punto che non sono d'accordo con le sue idee. D'altra parte voi vecchi dovreste essere... E gli ho detto guarda ti vedo abbastanza obeso e malmesso. Per cui siccome si diventa vecchio negli ultimi due anni della vita, ho l'impressione che tu sei leggermente più vecchio di me. Un altro elemento è l'androgenia. Naturalmente le donne ancora oggi in tantissime regioni del mondo non possono lavorare fuori casa. Ma man mano, per fortuna, questa parità si ottiene. Nel 2030 le donne vivranno tre anni più degli uomini. Dico a livello mondiale perché a livello italiano già vivono sei anni più degli uomini. In Italia ci sono 850 mila vedovi e 3 milioni e mezzo di vedove. Quindi capite la differenza. Negli Stati Uniti le donne controlleranno i due terzi dell'intera ricchezza nazionale. Il 60% degli studenti universitari, il 60% dei laureati, il 60% dei possessori di master saranno donne. Molte donne sposeranno un uomo più giovane di loro. Molte donne avranno un figlio senza avere un marito. Mentre agli uomini non sarà ancora possibile avere un figlio senza avere una moglie. Per tutto questo le donne saranno al centro del sistema sociale e saranno tentate di gestirne il potere con la durezza che deriva loro dai torti subiti nei dieci mila anni precedenti. Questa è una previsione. Stiamo parlando di previsioni. Questo naturalmente non è arrivato in tutti i luoghi. Per esempio questa è la fotografia ultima dei componenti dei governatori della Banca Europea. Come vedete ci sono solo due donne di cui una travestita da maschio. Per cui la situazione del Fondo Monetario Internazionale è ancora peggio. Anche se c'è il Presidente donna. Sette donne su 140 uomini. Quindi la strada è ancora lunga da percorrere. La tecnologia è quella di cui abbiamo sentito parlare fin da questa mattina e ne sentiremo ancora parlare subito dopo. Per la legge di Moore, Moore sapete è uno dei tre inventori del microprocessore, la potenza di un microprocessore raddoppia ogni 18 mesi. Tenete conto che le automobili hanno impiegato 70 anni per raddoppiare la loro velocità. Ciò significa che attualmente un microprocessore è circa 70 miliardi di volte più potente di quello degli anni 70 e che nel 2030 sarà centinaia di miliardi di volte superiore a quello attuale. Il microprocessore è quella schedina che avete in ogni cellulare. Pensate quante cose fa più di dieci anni fa e quante ne potrà fare ancora di più progressivamente. Ma qui c'è un pacchetto, non si tratta soltanto di informatica e di robot. Il ventunesimo secolo, oltre che di informatica e di robot, sarà assegnato dall'ingegneria genetica, con cui vinceremo molte malattie, ne abbiamo sentito parlare questa mattina, dall'intelligenza artificiale, con cui sostituiremo molto lavoro intellettuale, dalle nanotecnologie, con cui gli oggetti si relazioneranno tra loro e con noi, dalle stampanti 3D, con cui costruiremo in casa molti oggetti. Due aziende monopolizzeranno tutte le sementi e grazie all'informatica affettiva i robot saranno dotati di empatia. E anche questo, come capite, è un blocco che incide sul lavoro, al quale arriviamo fra poco. C'è poi la dimensione economica. Nel 2030 il prodotto interno lordo pro capite nel mondo sarà cresciuto del 159%. Per fortuna il pianeta nel suo insieme produce tra i 3 e i 5 punti all'anno in più ogni anno. Il problema, come vedremo, è la distribuzione di questa rischiazza. Rispetto al pire di oggi, i potenziali consumatori saranno, come abbiamo già visto, un miliardo in più. Però l'Occidente avrà ridotto del 15% il proprio potere d'acquisto. Noi siamo andati molto veloci nell'arricchimento. L'Italia, per esempio, ha 37 mila dollari pro capite, la Cina 7 mila, l'India 2 mila e 5 cento. Quindi in un mondo globalizzato è difficile immaginare una crescita molto forte dei paesi già ricchi. Attualmente gli otto più ricchi del mondo, secondo la graduatoria della rivista Forbes, possegono la stessa ricchezza di mezza umanità, cioè 3,6 miliardi di persone. Il reddito del mondo supera ormai i 65 trilioni di dollari annui. Secondo il rapporto ONU sullo sviluppo umano, basterebbero 100 milioni di dollari ogni anno per sradicare la fame nel mondo. Se la quota di PIL destinata a remunerare il capitale finanziario continuerà a crescere, la ricchezza si accentrerà ulteriormente con disastrose conseguenze economiche, ecologiche e sociali. Voi capite che otto persone che hanno la ricchezza di 3 miliardi e 600 milioni di persone, queste otto persone potranno anche comprare due Ferrari, tre Ville, cinque Yacht ciascuno, ma non potranno mai comprare 3 miliardi e 600 milioni di scarpe, 3 miliardi e 600 milioni di mutande. Questo comporta naturalmente che l'intera economia, l'intero ciclo economico ristagna e tutto questo unito allo sviluppo del capitale finanziario per cui l'economia si mangia la politica, la finanza si mangia l'economia, le agenzie di rating si mangiano la finanza, il risultato di tutto questo è la crisi nella quale siamo immersi oggigiorno. Qui vedete l'andamento del PIL italiano dal 52 a oggi. Come vedete è decresciuto sempre, non c'è stato un momento di grande riscatto, sempre decresciuto fino allo zero e poi sotto zero. Abbiamo avuto più 5,5 negli anni 50, più 5,7, poi 3,8, 2,4, 1,6, eccetera, eccetera. Contemporaneamente, se voi vedete lo stesso diagramma per il PIL della Cina o del Brasile, trovate che è precisamente l'opposto. L'altro aspetto, ne abbiamo parlato tantissimo oggi e credo che se ne parleremo ancora, la digitalità. Nel 2030 la nuvola informatica avrà trasformato il mondo intero in un'unica agorà, un'unica piazza. Te le apprenderemo, te le lavoreremo, te le ameremo, ci te le divertiremo. L'intelligenza artificiale potrà risolvere problemi con dimostrazioni incomprensibili all'essere umano. Ma la cosa importante è questa, il concetto di privacy tenderà a scomparire, sarà quasi impossibile dimenticare, pensate, sono funzioni che l'essere umano ha scaltrito nel corso di un milione e mezzo di anni e che non ci serviranno più. Sarà quasi impossibile dimenticare, perdersi, annoiarsi e isolarsi. Naturalmente, l'insieme di tutto questo è che sarà, per esempio, impossibile commettere adulterio. quindi ci sono anche aspetti meno piacevoli della vita. D'altra parte hai detto che sono al comando le donne. Vediamo i dati essenziali. Microsoft è del 1975, il web è del 91, Google è del 97, Facebook è del 2004, Twitter è del 2006. Questo significa che nel 2030 chi è nato con Microsoft avrà appena 55 anni, chi è nato col web 39, chi con Google 33, con Facebook 26, con Twitter 24. Questo ci dice perché è lenta la sostituzione della mentalità analogica con la mentalità digitale. Io per analogico non intendo soltanto anziani che non hanno dimestichezza con l'informatica. Accanto a questo di solito l'analogico ha paura di tutto, ha paura dei gay, ha paura degli immigrati, ha paura delle tecnologie, è molto puntuale, distingue molto tra notte e giorno, tra giorni feriali e giorni festivi, soffre di jet lag, gira poco, sa poco l'inglese, mentre per digitali intendo l'opposto, cioè generalmente più giovane con maggiore dimestichezza nei confronti dell'informatica, ma soprattutto sa di più l'inglese, gira di più il mondo, non soffre jet lag, ha rapporti sessuali molto più disimolti, non ha paura dei gay, non ha paura degli immigrati, si depila, non è puntuale e così di seguito. Cioè tutte quelle cose che fanno impazzire gli esperti di marketing. Allora, tutto questo, come diciamo confluisce sul lavoro il processo il progresso tecnologico e la produttività del lavoro crescono a velocità esponenziale. L'effetto congiunto della legge di Moore, del riconoscimento vocale, delle piattaforme, del danno tecnologie e della robotica comporterà uno sviluppo senza lavoro con la perdita di un numero costante, consistente degli attuali posti di lavoro non rimpiazzati dai nuovi posti. Ecco, vi dico che su questo c'è un dibattito fortissimo nel mondo. Cioè le nuove tecnologie creeranno più posti di lavoro o meno posti di lavoro? Gli economisti devo dire hanno un certo ritardo a capire generalmente le cose. Sono un po' come il census e come l'osservatore romano. Hanno una loro resilienza. ma chi tifa per il fatto che non si perderanno posti di lavoro è perché ha paura del tempo libero diciamo così ha paura dell'ozio. Io sono di cultura napoletana per cui l'idea che ci siano macchine grazie alle quali noi produciamo più beni e più servizi con meno fatica per me è una notizia diciamo straordinaria. Poi mi si chiede ma che cosa faremo nel tempo libero io dico ma su questo c'è un corso a parte che se volete io ho delle idee insomma di cosa si può fare nel tempo libero. L'occupazione vedete l'occupazione nel 1850 a Manchester che era la città più moderna del mondo più industrializzata era di 94% di colletti blu e 6% di colletti bianchi oggi siamo 33-33-33 33% di operai 33% di impiegati 33% di creativi nel 2030 i creativi saranno il 50% e le altre due categorie il 25% ma l'insieme del mondo degli occupati sarà sicuramente ridotto a quel punto naturalmente si tratterà di capire come ridividere il lavoro ora vedete si sono spesi 20 miliardi per il Jobs Act non si capisce quanti posti di lavoro si sono creati e per quanto tempo resisteranno uno degli ideologi del Jobs Act ha fatto uscire proprio in questi giorni un libro intitolato il ritorno del lavoro io l'ho cercato in giro questo lavoro ritornato tramite anche i miei studenti non siamo riusciti a trovare ma c'è c'è un elemento importante però che bisogna tener conto ed è quante ore di lavoro mediamente svolge un italiano un francese un inglese un tedesco beh vedete noi siamo riusciti al doppio capolavoro stupido di praticare più degli altri e di farci pure la fama di essere sfaticati perché come vedete il lavoro medio in Italia è di 1725 ore in fondo alla graduatoria vedete la Germania con 1371 ore poi se andate a vedere la percentuale di disoccupati naturalmente è proprio l'opposto ora questo è un fatto importantissimo noi per ottenere una distribuzione equa del lavoro dobbiamo tendere ad avere l'orario di lavoro della Germania aggiungete il fatto che in Italia ma un po' in tutti i paesi cattolici quindi anche Spagna Portogallo Cile Brasile eccetera si tende non si capisce perché arrestare sui luoghi di lavoro anche oltre l'orario di lavoro pur non essendo retribuiti per esempio i manager i quadri io mi sono sempre chiesto come mai questo avviene non credo che sia per amore del lavoro e soprattutto per odio della famiglia cioè si cerca di non di non tornare a casa a una certa a una certa ora di ciò solito per esempio alle 17 in Germania tutti escono dal lavoro da noi le donne escono per accudire i figli per fare i compiti e invece i maschi restano da una certa ora in poi le aziende italiane sembrano dei gay pride praticamente è così questo per esempio a mio avviso viene contrabbandata come un attaccamento al lavoro per me è una criminalità perché crea disoccupazione se noi se noi se noi avessimo lo stesso orario della il monte complessivo di lavoro degli italiani 23 milioni di occupati 3 milioni di disoccupati espliciti e 3 milioni altri di disoccupati che chiamiamo inattivi praticamente sono 6 milioni disoccupati in Italia se i 23 milioni di occupati invece di lavorare 40 ore e invece di fare straordinario lavorassero 4 ore in meno semplicemente cioè lavorassero come la Francia noi avremmo 7 milioni di posti di lavoro in più e se lavorassimo come la Germania avremmo 9 milioni di posti di lavoro in più quindi anziché ricorrere ai vari jobs act che costano 20 miliardi si potrebbe ricorrere a questa ridistribuzione che tra l'altro avviene in molte aziende se andate per esempio alla telecom vedrete che adesso ci sono più di mille persone che hanno il contratto di solidarietà cioè lavorano un giorno o due giorni meno al mese per ottenere il mancato licenziamento di alcuni di alcuni colleghi quindi noi tutto questo lo possiamo fare e lo aveva capito benissimo l'aveva capito il più grande economista del del novecento nel 1930 Keynes invitato dal re di Spagna a tenere una conferenza per i capi di stato fece un discorso meraviglioso che vi invito a leggere intitolato prospettive per i nostri nipoti che sarebbero praticamente i nostri figli e in cui dice non c'è altra alternativa che scendere a 15 ore settimanali di lavoro il poco lavoro che ancora rimane si è ridistribuito fra quanta più gente possibile turni di tre ore e settimane lavorative di 15 ore possono tenere a bada il problema per un buon periodo di tempo insieme naturalmente alle macchine e insieme al reddito di cittadinanza per la prima volta dalla sua creazione l'uomo si troverà a questo punto di fronte al vero costante problema come impiegare il tempo libero che la scienza e l'interesse composto gli avranno guadagnato per vivere bene piacevolmente e con saggezza questo è un maestro e lui fa affreschi abbiamo un affresco di come potrebbe essere questo mondo del prossima decade o qualcosa di più nel quale stiamo andando ci sono alcune certezze che ci ha dato tipo le donne andranno al comando e l'Italia è un po' sfigata ma a parte queste certezze ce n'è una un argomento che è rimasto completamente incerto tra tutti quelli che hai citato ed è se con il robot aumenterà o diminuirà il lavoro allora questo è esattamente una domanda che girerei a Corsini perché questo è il suo mestiere lui fa robot li fa strani li fa a Genova con 20 persone per tutto il mondo e il fatto che la robotica di cui di cui mi occupo io non è una robotica che toglie lavoro cioè la nostra è un po' felice come Isola perché normalmente è una robotica che toglie i rischi dal posto di lavoro e poi quando si parla di robotica di robot nell'immaginario collettivo si può pensare a Goldrick si può pensare al Roomba che pulisce il pavimento a robot industriale cioè ce ne sono tante declinazioni diciamo che dividendo questo mondo della robotica delle macchine fra quelle che fanno automazione che fanno prodotti ci sono anche quelle che fanno operazioni e ci sono delle operazioni di cui gli uomini non possono fare a meno per esempio mettere in sicurezza al proprio ambiente le centrali nucleari che devono non è un problema economico devono essere riportate in condizioni di sicurezza quelle vanno smantellate e questa roba qui non la può fare l'uomo da solo non la possono fare le macchine da sole perché che la robotica di ricerca la mia città ne gode di un felice esempio della robotica più avanzata effettivamente a livello mondiale però i robot avanzati sono ancora un po' troppo intelligenti i robot industriali sono ancora un po' troppo stupidi e cercare di metterci l'intelligenza che serve per risolvere certi problemi dentro crea ancora dei problemi quindi in realtà tutte le volte che noi vediamo una macchina un robot o un qualcosa pensiamo che c'è qualcuno che l'ha progettata che l'ha costruita che la sta facendo funzionare e quindi questo in realtà se da un lato genera lavoro per fare quelle cose lì da un lato c'è un problema di togliere rischi dall'ambiente di lavoro ci sono anche altre operazioni di cui gli esseri umani non possono fare a meno curarsi per esempio non ne possiamo fare a meno riabilitarci per esempio non ne possiamo fare a meno una popolazione la cui aspettativa di vita aumenta una popolazione che invecchia ahimè man mano che diventiamo più vecchi se non moriamo diventiamo disabili in qualche maniera diventiamo disabili motori disabili psichici disabili in qualche maniera e con cosa ci aiutiamo ora noi in occidente diciamo abbiamo un approccio un po' diverso al Giappone che questa roba qui effettivamente la vede la vive in un'altra maniera il Giappone insieme alla Corea la Germania diciamocelo noi e noi italiani sono quelli che diciamo stanno sviluppando le robotiche avanzate più avanzate del mondo allora il Giappone nel 2025 avrà bisogno di circa 4 milioni dibadanti per una popolazione anziana e tutto ce n'ha un milione e mezzo in più diciamo non è che hanno diciamo grossa facilità e grossa diciamo apertura nei confronti di altre persone che vadano a stare con loro e quindi lo fanno con le macchine per loro è anche più semplice il rapporto che hanno che hanno quelle culture lì una cultura scintorista con le macchine è diverso quello che abbiamo noi a loro non fanno paura ecco a proposito Mimmo ha detto che i robot avranno capacità empatiche se devono fare l'abadante in qualche modo dovrebbe dovrebbe essere così è vero? è meglio una cecena è meglio una cecena cecena proprio cecena vabbè cecena ma ce l'abbiamo la Caterina del famoso film di Alberto Sordi cioè una volta era fantascienza adesso ci siamo prossimi ci siamo e sicuramente l'aspetto empatico sarà per forza presente perché la logica dei robot e delle macchine che lavorano per noi in realtà va sostituita per le macchine che lavorano con noi cioè non possiamo pensare a un futuro in cui la tecnologia e le macchine è da una parte e noi viviamo perché avremo più tempo libero per tutti felicemente in un'altra parte conviveremo con queste cose ma ci conviviamo già adesso e che chiamiamo rivoluzioni cose che in realtà sono evoluzioni cioè una cosa di cui forse magari sfugge è quanto in questo momento noi stiamo facendo del download perché ci riempiamo in un qualcosa che ormai abbiamo tutti cioè stiamo diventando tutti un ip address ognuno di noi ormai ha un qualcosa che riceve informazioni e la cosa singolare è che le stiamo anche mettendo sulle informazioni cioè c'è una fase di download in cui ci premuriamo di avere app di avere informazioni tantissime talmente tante che senza riduttori di complessità noi non riusciamo a processarle ma allo stesso tempo queste informazioni le stiamo passando e le stiamo mettendo in rete e se questo nella robotica è un dato di fatto pratico e tutto immaginatevi un attimino i robot e il cloud uno dei robot che vedremo io credo che sarà italiano e facilmente genovese potrà fare l'assistente commerciale per esempio in un apple store allora io vado vado a comprarmi l'ultimo gadget l'ultima cosa di cui ho bisogno o che mi hanno convinto di averne bisogno e questo robot viene secondo una strategia di marketing e di vendita cercherà mi approceranno e scoprirà che mi vende che mi riesce a vendere l'iphone o non me lo vende l'ultimo modello perché io per esempio porto la giacca marrone o porto i braccialetti un'altra cosa benissimo questa informazione lui la passa in cloud e in quel momento tutti i robot del mondo contemporaneamente in tutti gli apple store sanno che se arriva un tipo fatto come me così così con questo profilo questa roba oggi chi compra su amazon non scopre dopo tre libri che ha comprato quale sarà il prossimo libro che gli piace e in questo momento questa coscienza collettiva sarà dappertutto e quando questa intelligenza artificiale avrà superato per chi per i futurologi che parlano della singolarità prossima avventura avrà superato l'intelligenza biologica l'intelligenza biologica si dovrà adeguare a quella artificiale e quindi ogni esperienza ogni emozione ogni sapere umano sarà immediatamente forse in tempo reale condiviso a tutti gli altri esseri umani fa paura questo è bello non so ci arriveremo adesso il qui ed ora è ancora un pochino differente se sono genovesi diranno a quei clienti che arrivano all'apple store beninone cosa del genere ma il il punto è che noi stiamo evolvendo da quando siamo una specie identificata con la tecnologia e che la tecnologia con la tecnologia modifichiamo l'ambiente nel quale siamo ci adattiamo l'ambiente che abbiamo creato e continuiamo a spostare l'asticella adesso siamo di fronte a una ulteriore ondata innovativa stiamo cercando di concepire che il mondo stiamo creando e stiamo osservando alcune regolarità con le quali voi due ci state aiutando a immaginare come è fatto il futuro in pratica una situazione nella quale c'è più gente lavora meno ha più tempo libero e ha bisogno di più intelligenza nel caso di De Masi sintetizzando da giornalisti e quindi in modo impreciso nell'altro una strumentario che contemporaneamente mentre fa cose che gli umani non possono e non vogliono fare costruisce una conoscenza che viene condivisa a livello planetario e porta oltre l'immaginabile queste sono le due impressioni ma di fronte a questo qual è la cosa che dobbiamo fare adesso per prepararci ma sono almeno due anzitutto io credo che la nostra epoca è un'epoca in cui non è possibile non essere attenti all'evoluzione dei fatti e per fortuna ci sono fondi di approvvigionamento dalle quali si può sapere che so quali tecnologie ci saranno fra due anni fra tre anni fra cinque anni quali tipi di lavoro saranno sostituiti e quali no perché ci sono tipi di lavoro che essendo più quantitativi più ripetitivi saranno sostituiti per primi e altri invece che saranno sostituiti dopo o per ultimo che so la funzione di parroco io credo che non sarà sostituita quasi mai quella della badante sarà sostituita in parte anche in Italia si fabbricano a Pisa robot che sanno sostituire abbastanza bene badante il problema però è questo che le tecnologie essendo costose almeno all'inizio molto costose finiscono per essere appannaggio di pochi per cui pochi avranno la possibilità di produrre quella ricchezza di cui si approprieranno cioè allo stato attuale praticamente lavora circa il 22-23% della popolazione tutto il resto non lavora nel senso che non fa quelle cose che noi retribuiamo lavoro di studente lavoro di casalinga e così di seguito ma quando al posto di 23% di lavoratori ci sarà per esempio il 5% di lavoratori come si farà a fare in modo che la ricchezza prodotta da questo 5% vada a tutto il gruppo dei 100% questo è il problema mi ricordo che feci un dibattito con Avel che era un grandissimo intellettuale presidente della Repubblica allora cecoslovacca il giorno della caduta del muro di Berlino alla radio e lui terminò dicendo guarda che il comunismo ha perso ma il capitalismo non ha vinto perché il comunismo era capace di distribuire la ricchezza ma non la sapeva produrre il capitalismo sa produrre la ricchezza ma non è capace di distribuirla questa è la nostra situazione noi non riusciamo a ridistribuire la ricchezza il lavoro il sapere il potere le opportunità le tutele altro che articolo 18 c'è da avere un modello complessivo completamente nuovo della nostra società forse c'è anche bisogno di una ridistribuzione della conoscenza a questo punto infatti io credo che questo sia anche un problema di tutti noi che siamo in questa sala oggi le società precedenti tutte le società precedenti sono nati in base a un modello teorico che le aveva preparate la Repubblica di Pericle nasce sulle idee di Protagora il Sacro Romano Impero nasce sulle idee del Cristianesimo gli stati del Settecento nascono sulle idee luterane lo Stato Liberale dell'Ottocento nasce sulle idee di Smith sulle idee di Tocqueville la Russia Sovietica nasce sulle idee di Hegel di Engels e di Marx la nostra società post-industriale è nata senza un modello precedente di riferimento non avere un modello di riferimento significa che noi non sappiamo distinguere non riusciamo più a capire cosa è bello e cosa è brutto cosa è vero e cosa è falso cosa è destra e cosa è sinistra cosa è maschio e cosa è femmina abbiamo discusso per 18 anni per decidere se la Inglero era viva o era morta perché manca un modello e quando manca un modello succede quello che succede quello che diceva Seneca cioè nessun mento è favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare ma chi è che deve creare i modelli non sono mai stati i politici i politici implementano i modelli i modelli sono creati dagli intellettuali e sono creati dagli intellettuali quando gli intellettuali hanno il coraggio di essere controcorrente guardate cosa è successo nel settecento allora c'era il re sole che aveva potere assoluto di vite e di morte c'era la chiesa con l'inquisizione che ancora alla fine del settecento mandò al rogo una ragazza a Orlì perché ritenuta strega eppure in questa situazione così pericolosa una trentina di giovani una quindicina in Francia Diderot Dallamère Voltaire Rousseau 5-6 in Italia 5-6 in Inghilterra un certo Kant in Germania elaborarono un modello di società completamente sovversivo per quell'epoca e Voltaire andò due volte in galera Diderot andò in galera Condorcet fu ammazzato il povero anche Rousseau andò in galera il povero Rousseau fu perseguitato io mi ricordo in un dibattito con Umberto Eco due anni fa dicevo ma io e te non abbiamo fatto manco un quarto d'ora di galera come possiamo come possiamo avere elaborato un modello nuovo cosa succede dicevo dicevo Rousseau Mimmo perché la loro piattaforma che in fondo è un tema nuovo cioè che invece di esserci un modello ci sia un metodo ma io credo il metodo è importante ma viene dopo il modello il metodo è come che so il timone però c'è prima tutta l'arte diciamo della navigazione io credo che come si sta facendo questa giornata che per me è preziosa ho riempito un sacco di pagine di appunti sentendo le cose che ho eppure sono uno che gira molto adesso vengo da un giro fatto nella parte sud degli Stati Uniti e in Messico per visitare tutta una serie di laboratori scientifici ma credo che come si sentono gli scienziati che ci vengono a dire come evolve la farmacologia la biologia e così di seguito occorre anche spingere pretendere dagli intellettuali che forniscano proposte di modello proposte di modello che la politica poi sperimenta grazie dobbiamo chiudere ma vorrei da Corsini un'altra battuta finale sulla condizione nella quale si trova l'Italia rispetto allo sviluppo che lui ci ha descritto essendo un dato di fatto la eccellenza della produzione robotica avanzata di Genova di Pisa e di altri luoghi nel nostro paese ma anche il fatto che il retroterra è costituito da un grandissimo settore dell'automazione industriale che con i robot ha una parentela e che potrebbe averla ancora di più quindi per l'ambito di cui stiamo parlando in realtà l'idea che l'Italia sia uno dei 4-5 posti del mondo che costruirà l'industrializzazione intesa nel senso robotico del termine dei prossimi anni è possibile si può dare nell'ambito delle previsioni di cui stiamo dotandoci in questa giornata un elemento che dovrebbe far riflettere questo il paese che più di tutti in questo momento compra e consuma robotica è la Cina laddove il problema dovrebbe essere come faccio a far lavorare tutte le persone la Cina non ha problemi di basso costo del lavoro anzi la Cina sta investendo fortissimamente in tecnologie la Cina recentemente ha acquisito un'azienda l'azienda diciamo di riferimento della robotica mondiale un'azienda tedesca l'ha pagata cinque volte il valore di mercato la lascia da lei in Germania la casa in Germania ha anche fabbriche in Cina e tutto quindi investe in nuove tecnologie e contemporaneamente tiene basso il costo del lavoro facendo migrare le persone dalle campagne alle città questo per continuare a tenere basso il costo del lavoro altrimenti si replicherebbe il meccanismo in cui alti salari le fanno perdere competitività quella che fino adesso ha potuto mantenere guardando avanti tende a un asintoto a gioco lungo non posso puntare sul costo del lavoro perché avrò da cinese qualcuno più cinese di me e le aziende cinesi cominciano a delocalizzare in Bangladesh cominciano a delocalizzare in Sri Lanka in Messico cominciano a spostare fa il giro sta roba qui così allora diciamo i paesi o meglio i modelli le visioni che investiranno nelle tecnologie del futuro saranno quelle che avranno lavoro anche manifatturiero perché probabilmente robotica 3D printing intelligenza artificiale cose del genere faranno perdere il vantaggio competitivo di andare a spostare il lavoro in paesi low cost laddove il costo del lavoro non sarà più dovuto alla componente umana ma quella delle macchine però gli umani ce l'avremo sempre e anzi saranno di più questi umani dovremo trovare qualcosa a fargli fare a queste persone e dovranno soprattutto saperse adeguare a un mondo che gli sposta al lavoro perché a gioco lungo forse non è vero che l'ha tolto guardate che vent'anni fa trent'anni fa quando si sentiva parlare di creativo a quell'epoca il creativo era il figlio che non avremmo voluto avere era il frichettone lo scapestrato era quello lì oggi è una figata essere un creativo e meno male che ci sono i creativi che ci sono i sarti i cuochi i pittori i designer e saranno quelli che dovranno disegnare il mondo io voglio concludere vedo una bella scritta su un muro ricordo che una volta andai a prendere un cliente all'aeroporto di Genova e mentre tornavamo dall'aeroporto si passa in quartieri che erano quartieri a forte diciamo vocazione operaia e manifatturiera e c'era un murale su un muro con scritto per conquistare il futuro bisogna prima sognarselo cosa c'è scritto lì sopra a questo però un altro aveva risposto per realizzare i tuoi sogni devi prima svegliarti ok io chiuderei qua perché secondo me loro hanno bisogno del palco grazie alla prossima grazie